Sconvolto dalla morte della Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, ha scritto su Twitter il regista Gabriele Muccino. Recentemente ha realizzato una campagna promozionale per il rilancio della sua straordinaria regione. Amava moltissimo la sua terra, era fiera e combattiva. Muccino infatti ha girato il cortometraggio Calabria, terra mia, che sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma e che Iole Santelli, scomparsa a 51 anni, con il pensiero fisso di cambiare la Regione anche attraverso la sua immagine in Italia e nel mondo, gli aveva affidato. Perché, spiegava la governatrice della Calabria, è il regista dell'amore e se non sa far innamorare lui il mondo della Calabria non ci riesce nessuno. Le riprese erano state effettuate quest'estate, nel cast Raul Bova, nel ruolo di un uomo che conduce per la prima volta la compagna, Rosio Munoz Morales, sua compagna anche nella vita, alla scoperta della sua terra d'origine, la Calabria. Alla Festa di Roma con Muccino e il cast doveva esserci anche Iole Santelli, ma la malattia contro cui combatteva da tempo l'ha fermata prima.